E ora vado all'assaggio di questa bontà che secondo me andrebbe questa sera mamma mia signori eh prendo un pezzettino di salsiccia che come possiamo vedere ha cotto bene però è sempre un po' chiarina fortunatamente perché se no a me non la mangiavo troppo cotta prendo un po' di pane un po' di tutto vedi è calcolato e ora vado all'assaggio prendo un po' di tutto un po' di pane un po' di lenticchie un po' di salsiccia faccio un pasto completo e brucia no è solo buona si ma poi ti ci vuole mangiare tanta te poi diventi intelligente come einstein diventi proprio una iena però poi si diventa intelligente un einstein e mi tocca dividere la mole o la mia mangialla ma a mangiare ci si pensa no no